Buon lavoro a tutti, puntata speciale da dove? Da Spacca Napoli, siamo in via Benedetto Croce, la centralissima via di Napoli. E allora vediamo insieme le tre parole chiave della settimana. La prima parola chiave della settimana è congedo dell'infelicità. Di che cosa parliamo? Parliamo di un congedo speciale di dieci giorni previsto dalla catena di supermercati cinese Pang Dong Lai. Siamo nella provincia di Enan, Cina centrale. In sostanza, per equilibrare il rapporto tra vita privata e lavorativa, l'azienda ha previsto un congedo speciale di dieci giorni. Non sei felice non venire a lavorare in azienda, ne hai il diritto congedo da seguire con attenzione. La seconda parola chiave della settimana è Welcome Baby, benvenuto bebè. 20 giorni di ferie in più per ogni neogenitore, papà o mamma, oppure per chi adotta un bambino. Lo ha previsto teleperformance. Each interaction matters, dice il motto aziendale. Ciascuna interazione conta e questo vale sia all'interno delle aziende che appunto all'esterno. Infine, la terza e ultima parola chiave della settimana è premio extra. Vi siete meritati questo bonus per gli sforzi che avete fatto. Lo ha scritto chi? Il gruppo Emirates a tutti i dipendenti. Cinque mesi di stipendio in più regalato agli oltre 100.000 dipendenti del gruppo di proprietà del governo di Dubai. Utili record e lo stipendio vola. E allora, buon lavoro a tutti, da dove abbiamo detto da Spacca Napoli con questo caffè speciale. e da ultimo non dimenticate di scrivermi, scrivermi, scrivermi dove? Su LinkedIn per raccontarmi le vostre esperienze di lavoro. Vi aspetto tutti su LinkedIn. Ancora buon lavoro a tutti da Spacca Napoli.